Benvenuti al canale News Gossip World, dove le storie più scottanti e avvincenti del G.C. si svelano sotto la lente implacabile del gossip. Oggi, uno sguardo approfondito sulla vicenda che ha catturato l'attenzione di tutti, Francesco Totti e il suo silenzio dopo il documentario unica di Ilari Blasi. Una storia di Rolex, udienze imminenti e relazioni tumultuose. Il capitano, ex numero 10 romanista, sembra avere un atteggiamento riservato e sereno, impermeabile alle frecce avvelenate di Ilari Blasi. Mentre il documentario unica su Netflix scuote il pubblico, Totti rimane in silenzio, preparandosi per la prima udienza sulla disputa dei Rolex il 4 dicembre. Un confronto che va oltre il possesso per decidere la proprietà. Il divorzio, invece, aspetta la sua udienza il 24 gennaio 2024, ma Totti sembra intenzionato a mantenere un eloquente silenzio. La sua verità, come sottolineato, sarà raccontata ai giudici. Un atteggiamento che fa parlare di un Totti rassegnato ma sereno, conscio che le parole potrebbero fare più male dell'indifferenza. Chi conosce da vicino il capitano rivela un uomo rassegnato ma felice con la nuova fiamma, Noemi Bocchi. Mentre gli impegni professionali si moltiplicano, Totti sembra rinascere dalle ceneri della sua carriera calcistica. La possibilità di un ruolo nello staff della nazionale è nell'aria, e la pace con spalletti è stata fatta. Tuttavia, il clima con Ilari è meno che zero. La festa di compleanno per il figlio Christian ha scatenato nuovi rancori. Totti è stato escluso di proposito, e questo gesto non è passato inosservato. Le accuse di tradimento lanciate da Ilari su Netflix vengono accantonate con indifferenza, mentre le prove contro di lei sembrano pronte a emergere in tribunale. Restate sintonizzati e iscrivetevi al canale, per tutte le ultime novità su questa intricata storia. Francesco Totti, il capitano, naviga tra silenzi eloquenti e udienze imminenti, mentre il canale News Gossip World continua a sbirciare dietro le quinte delle vite dei personaggi più famosi. La verità, come sempre, è più incredibile della finzione.